Ciao ragazzi, questa mattina ci troviamo sulla teleferica del 1970, costruita apposta per scalare il Corcovato e arrivare alla bellissima stata del Cristo Redentore. A gennaio questa teleferica verrà sostituita con una nuova e quindi sarà l'ultima occasione che abbiamo per vederla così com'è. Vi faccio vedere un pochino lo spettacolo che c'è qui fuori. E altra favola di foto del Cristo. Ciao ragazzi!